Il valore etico del Made in Italy, generazioni a confronto, ma anche il premio che ogni anno la Coldiretti regala, dà, offre, ottenendo un grande riconoscimento per nuove generazioni, sei premiati. Il direttore della Coldiretti Abruzzo, dottor Giulio Federici. Quando riassumiamo in una parola sola cibo, evidentemente per noi Italia, per noi Coldiretti, rappresenta anche un valore etico. Noi mettiamo in evidenza con forza il fatto dei nostri prodotti perché sono anche prodotti, e mi passate il termine, quindi la ripetizione, sono prodotti che rispettano fino in fondo quello che può essere il valore in contenuto nello stesso alimento. Noi vogliamo un prodotto che in qualche modo possa concorrere a pari e mani con gli altri prodotti europei. Il valore del premio è un'idea, quindi va a premiare quelle aziende che in qualche modo si sono distinte e si stanno distinguendo in Italia proprio sotto questo profilo, cioè un'idea imprenditoriale che in qualche modo ricomprende in sé anche quello che è un fattore economico. Il cibo è il sacro, è ancora attuale un argomento del genere? Ma veda, il cibo è sempre attuale perché dobbiamo nutrirci tutti. Io direi che è sempre attuale anche il sacro perché tutti abbiamo bisogno di un senso ultimo, di un grembo e di una custodia che ci accompagni. Rapportare cibo e sacro significa rapportare il lavoro dell'uomo, la sua capacità produttiva a quello che è il bisogno che gli ha e le esigenze per la sua vita, il suo sviluppo e così via. Proprio questa regione, l'Abruzzo e questa diocesi, questa provincia Chieti, sono caratterizzate da una ricchissima produzione agricola legata in particolare al vino e all'olio, ma naturalmente anche ai cereali che sono così fondamentali. Ecco perché credo che riflettere su questo e rilanciare l'attenzione su questi temi anche per motivare eventualmente nuove imprenditorialità nell'agricoltura sia qualcosa di importante per il bene comune.